Un pocherino sotto Natale e tanta, tantissima roba. Il jarre di Beppe Mascara ci proverà. Dopo aver steso nell'ordine Ragusa, Realaci e Caltagirone, i gialloblu sperano, appunto, di calare il poker domenica prossima. Occhio però perché Catania s'ampio decimo, prossimo avversario al regionale. È una squadra di tutto rispetto, ma con un difetto grosso così, la fase difensiva. I biancorossi, infatti, con 26 gol subiti in 14 gare, hanno la peggior difesa del gruppo B di eccellenza. Questione di carenze quelle che il jarre proverà a sfruttare a proprio vantaggio. E lo scontro diretto tra Rosolini e Città di Sant'Agata, ovvero quinta e terza forza del torneo, potrebbe in qualche modo favorire Mascara e Sochi. Tre giornate senza sorridere non sono certo il massimo. Lo sa bene la russo calcio a secco di vittorie ormai da tre turni. Il pareggio contro il Pisano non è un risultato da buttare, ma una vittoria avrebbe fatto certamente più comodo ai ragazzi di Mr. Musumeci, considerando anche il prossimo impegno in casa dello Sporting Tower Mina, leader del girone E di prima categoria. Insomma, un'autentica montagna da scalare per i biancazzurri, abbacchiati a quota 10 punti in altrettante partite disputate. Non se la passa certo meglio il riposto a digiuno ormai da oltre un mese. L'ultimo pranzo interno col branciforti è rimasto sullo stomaco ai gialloverdi che nel fine settimana, orfani ancora di Maurizio Anastasi, saranno di scena a Castel di Iudica, maglia nera della regular season di seconda categoria con appena 4 punti, 7 gol fatti e ben 24 incassati. Insomma, l'imperativo è vincere per tornare finalmente a respirare. Da una parte all'altra della classifica, il calcioggiare viaggia a ritmi altissimi, ma nel prossimo turno dovrà guardarsi bene dall'insidioso Catania Football Club, ben appostato in terza piazza a meno 5 dai gialloblu. Con una vittoria, i ragazzi di Giordano scaverebbero un solco profondissimo con le inseguitrici, lanciando un segnale forte al campionato, o meglio, all'attuale capolista villaggio Sant'Agata, che del weekend ospiterà il modesto Zafferana.